Ma noi siamo sconcertati perché questa politica dell'invasione, della cosiddetta accoglienza, sta raggiungendo ormai dei livelli insopportabili. Arrivare a requisire un albergo per ospitare profughi è un passaggio ulteriore, negativo per la collettività e un esproprio della proprietà privata che noi non accettiamo. Diciamo anche che da qui a espropriare, a prendere il possesso, la gestione di un immobile privato è molto breve, un domani potrebbe riguardare anche cittadini che hanno delle case sfitte. Noi siamo molto preoccupati, c'è stata anche una notizia ieri che uno dei presunti profughi ospitati a Verona è uno spacciatore colto in flagranza di reato e non arrestato o rispedito a casa sua, ma è stato riaccompagnato nel centro di accoglienza. Così non va, serve bloccare questo governo, serve un no alle politiche sull'immigrazione portate avanti da Alfano e Renzi.